Ciao! No, non mi piace Sono 8 grammi Pronto? Ah, ciao, detta Sono Sara, la figlia Lo so, lo so, lo so Grazie Vi faccio vedere come è dentro No, non mi piace Sembro veramente pazza Non faccio il video Bene, video terminato Spero di esservi stata utile Fatemi sapere La crema colorata Molto molto piacevole Ha un'ottima texture E vi ripeto Il colore è leggermente più scuro Però secondo me Dà quel tocco di Dic de che Quindi è leggermente Più scura Del mio colore Anche perché avevo preso Un po' di abbronzatura Ma l'ho persa Ovviamente E Però dà questo effetto Salubre Quindi Piacevole Ciao Video richiesta Fatemi da Richiesto Fatemi Fatemi da Ciao Questo è un video richiesta Un tempo fa Sì A questo punto Andrò a utilizzare Due ombretti Di Catrice Ma ovviamente Andranno bene Qualsiasi ombretto Andrò a utilizzare Due ombretti Di Catrice Che sono Di un'edizione limitata Questi qua Non li utilizzo Spesso Erano dell'edizione Limitata Out of Bene Trucco terminato Spero Mary Che Ti sia piaciuto E Fatemi sapere No